Il sembro proprio... ... 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 Noi abbiamo portato oltre i trai, li diamo giù anche lui, ha portato la roba di quelle cibre ancora, quindi loro ne la fanno a montarlo tutto. Ma io non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Io mi rifio, più o meno, più o meno, più o meno. Il solito peso non lo vedi, quella led è nata più giù, quando sei sotto, però sì, però quando sei sotto non lo vedi, la led è a questa distanza qui, quindi viene, viene anche quello, quindi com'è? Sì, è un po' più avanti, comunque andava le cose e si camminava, almeno le 50-60 metri. Poi non è che non camminava, perché ha fatto una bella frenata lui, eh? Sì, ma tanti che diciamo non si è fatto niente, perché lui non ha già fatto più, eh? Già, già è tanto quello. Non si è fatto molto veramente. Sì, sì. Però ha sommato lì, purtroppo, perché, e senza mettere le mani nella provincia... Eh, ma ci mettiamo nella provincia le... Ma che vuole anche il comune che si chiede a tricolo, che no? No, io ho visto per Ostra, c'è una tutta pane, mi chiede la besta. C'è dove c'hanno ormai, la stanza, ho messo un dato, mi chiede la stanza. Eh, non è più... Adesso è... Ma... Grazie. 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 Grazie.